Bene, il girone d'andata, anche se in realtà tutte e due queste squadre hanno una partita da recuperare. Il Bologna, la sfida interna con l'Atalanta, il Cagliari, quella di Udine, entrambe furono rinviate per il maltempo. Oggi però, vietato sbagliare. Allora, buon pomeriggio dallo stadio Renato Dallara, da dove vi salutano Massimo Tecca e Gianluca Pagliuca. Attacca Cossu, crocia Larry Bay, insiste Cossu da solo, Cossu in giro a tiro, la deviazione in calcio d'angolo di Viviano. Ha fatto tutto da solo Cossu, bravissimo Viviano in angolo. Cossu di Raggi, colpo di testa, grande occasione al centro dell'area di rigore, una grande occasione per Di Vaio. Cossu, è finito a terra Cossu, si gioca per il vantaggio, c'era palo di Nudingai, attacca Biondini, palla a sinistra per Lazzari. Ha provato il tiro al volo Lazzari, grande occasione, grande palla a gol per il Cagliari. E lo scatto di Matri, Moras, Matri è solo, sta uscendo Viviano, ancora Matri, porta vuota e il salvataggio di Portanova. Ad Ailton, prova a mettere dentro, un rimpallo la parata di Marchetti, dopo il colpo di petto e non di braccio da parte di Lopez. Guana, ad Ailton, Salaceta, pronto a partire Di Vaio, insiste Salaceta, va da solo, Salaceta, Salaceta! In calcio d'angolo Marchetti, recupero di Lazzari che però non ha disturbato Salaceta. Siste Ad Ailton, ancora sulla destra, l'azione di Ad Ailton, così come prima Salaceta. Adesso ancora Salaceta, dentro per Di Vaio, Di Vaio! Che occasione per il Bologna, con Marco Di Vaio! Adesso Raggi, Casarini, cross di Casarini, Marchetti, Di Vaio! Respinto il tiro di Di Vaio, Lazzari allontana di testa il pericolo. Ad Ailton con Di Vaio, che prova ad allontanarsi da De Sena, insiste Ad Ailton, 3 contro 2, Ad Ailton, Ad Ailton, Ad Ailton! Che egoista Ad Ailton! Qui c'è Cossu in posizione di alla sinistra, Cossu, Geda, Geda, Parola, prova in diagonale, e Matri, c'è 1-0 per il Cagliari, ha segnato Matri! E' entrato Geda, dopo 3 minuti, e subito ha fatto quest'azione, la palla è rimasta sotto, ha messo questa palla, ho il bacio, e ha fatto gol Matri. Jimenez, ancora Jimenez in area, Jimenez, Pia Ronale sul fondo dell'uruguayano, grande iniziativa di Enri Damian Jimenez. Finisce qui, finisce con la vittoria del Cagliari, e con qualche polemica in mezzo al campo, il Cagliari ha vinto con il nono gol in campionato di Alessandro Matri, e vola a quota 27 verso il centro classifica.